Ciao a tutti ragazzi! Come anticipato nel video dell'ultima casa, oggi vi mostreremo come costruire un'auto su Minecraft. Iniziamo! Per prima cosa facciamo le ruote, quindi mettiamo due cubi di lana nera lasciando uno spazio libero di due cubi tra di essi. Li rifacciamo due cubi dietro. E tra i quattro cubi mettiamo delle lastre di quarzo alzate da terra. Sui lati rimasti liberi mettiamo un'altra fila di lastre. Sopra le ultime file fatte mettiamo dei cubi di argilla rossa lasciando libero il cubo centrale della fila. Nel cubo centrale mettiamo uno scalino di quarzo, mentre in quello dall'altra parte dell'auto mettiamo uno scalino rovesciato. Sopra le ruote mettiamo degli scalini rovesciati. E sopra queste due lastre mettiamo dei cubi di argilla rossa da entrambi i lati. Nello spazio tra i due scalini rovesciati ne mettiamo un altro, rivolto verso la parte frontale dell'auto. Facciamo la stessa cosa per la parte posteriore. Nello spazio rimasto libero mettiamo due scalini posti normalmente, che saranno i sedili. Sopra di essi e sopra i due cubi di argilla rossa ai lati mettiamo dei cubi di vetro grigio con sopra botole di ferro. Nella fila centrale dell'auto mettiamo dei tappeti neri. E sopra i cubi di argilla della parte posteriore mettiamo delle sbarre di ferro, che saranno le antenne. Intorno alle lastre di quarzo mettiamo dei cartelli. E sulla parte frontale dell'auto mettiamo due cornici da esposizione, in cui mettiamo una pepita d'oro. Questi saranno i fari. Infine, davanti alle ruote e da un cubo di argilla laterale mettiamo dei pulsanti in pietra. Speriamo che questo mini tutorial vi sia piaciuto, nel caso droppate un like e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!